Oroscopo di Peter Van Wood per domani domenica 19 luglio. Le stelle indicano un incendio doloso. Ariete, passerete una bella domenica insieme ad amici e persone della famiglia. Una persona vi farà la corte oppure vi mostrerà la sua teatria. Toro, durante la giornata di domani farete numerosi incontri, alcuni dei quali potranno portare ad una nuova bella amicizia. Gemelli, sarete contenti a causa di un fatto che si verificherà. Probabilmente spenderete un po' di più di quello che potrete permettervi. Cancro, con la sole, mercurio e marte nel segno sarete comunicativi, allegri, vitalizzati e così simpatici che la gente desidererà la vostra compagnia. Leone, per avere una domenica così come si vuole, bisognerà essere gentili con tutti e non badare troppo a qualche guastafeste che probabilmente si presenterà. Vergine, domani avrete due elementi a vostro favore. Prima i soldi verranno verso di voi, secondo gli amici vi adoreranno. Nica male. Bilancia, una signora cercherà di farvi spendere dei soldi dove non esisterà nessuna necessità. Scegliete le vostre amicizie con cura. Scorpione, per essere felici domani basterà ricordare che non siete i soli ad avere desideri, siamo quasi in 60 milioni. Sagittario, anche a voi gli amici daranno il cuore per dimostrare che anche a voi volete, che anche voi volete bene a loro, dovrete rispettare gli appuntamenti e mantenere le promesse. Capricorno, se desiderate conoscere qualcuno, stringere una nuova amicizia, farvi amare, eccovi il momento adatto. Domani. Acquario, questa è una domenica che vi porterà un po' di tutto. Allegria e sentimentalismo, gioie e dolori, nervosismo ed allegria. Sappiate dosare. Pesci, continuerà il vostro periodo di fortuna, potrà nascere un amore un po' leggero e forse un extra legame, lasciate perdere. Arrivederci a domani e auguri a Luigi Pistilli.